Una giornata all'insegno del regno delle due Sicilie a Napoli. Don Pedro di Borbone e suo figlio Jaime sono stati in visita alla Maison Cilento a Palazzo Ladolf. Un'atmosfera da pieno 700 napoletano, la casa di moda, infatti, è stata fondata nel 1780. Don Pedro e Jaime, accolti da Martino Cilento, si sono soffermati sui tanti capi che consentono di respirare l'atmosfera della belle époque. È davvero un gran piacere essere in questo luogo d'altri tempi, ha detto lo spagnolo Don Pedro, mentre suo figlio Jaime ai nostri microfoni ha precisato. Come sempre siamo felicissimi di essere qui a Napoli, che per noi è come casa nostra e siamo anche felicissimi di essere qui in questo magnifico negozio e che ho sentito che è già quasi la nonna generazione. I Borbone hanno poi ricevuto al ricordo della visita cravate e fular che ricordano la città, in particolare le sette pieghe blu, con tutti i simboli più iconici di Napoli. È stato un grande piacere incontrare sull'altezza reale perché per noi è una grande soddisfazione, per me, per Ugo, di avere questi riconoscimenti internazionali.